Il Consiglio di Amministrazione di UbiBanca, presieduto da Letizia Moratti, ha varato Rilancio Italia, un programma integrato che comprende vari interventi urgenti del valore di 10 miliardi. Il sistema di iniziative riguarda tutti i segmenti di clientela del gruppo bancario, le imprese per assicurarne continuità operativa a fronte di possibili crisi di liquidità, famiglie, individui e enti del terzo settore per sostenerne la tenuta in un momento sociale potenzialmente critico. A Rilancio Italia si rivolge ai clienti residenti attivi in tutte le aree di presenza del gruppo Ubi e consiste in una serie di interventi specifici che combinano l'esigenza di affrontare l'urgenza del momento con l'intento di sostenere la ripartenza nei prossimi mesi. Si comincia con le iniziative in favore delle imprese, nuova finanza per liquidità con linee temporali a breve termine o finanziamenti chirografari anche tramite l'intervento di garanzie dello Stato, incremento delle linee di cassa tramite conversione dei fidi accordati, parte delle linee di credito commerciali già deliberate ma ancora non utilizzate e possono essere convertiti in fidi di cassa temporanei. C'è poi la sospensione nel rimborso dei finanziamenti con la possibilità di ottenere una muratoria sul pagamento dei finanziamenti in essere, il consolidamento del debito con finanza aggiuntiva, nuovi finanziamenti concessi grazie a specifiche garanzie pubbliche, sostegno alla digitalizzazione e possibilità di attivare POS da remoto in tempi rapidi e a condizioni agevolate. Poi arrivano le iniziative in favore di famiglie e individui, protezione del tenore di vita, una muratoria sul pagamento dei finanziamenti personali per chi ha subito la perdita o una riduzione del lavoro, la sospensione del mutuo prima casa, una muratoria sul pagamento dei mutui per le categorie e le condizioni previste dal decreto Cura Italia, il sostegno alla digitalizzazione nello storno di canoni commissioni alla clientela privata che adotterà sistemi digitali di integrazione con la banca per realizzare le principali operazioni, sostegno nella gestione dell'emergenza, possibilità di ottenere un anticipo sulla cassa integrazione in deroga.